benvenuto nel nuovo formato di gentiluomo digitale shorts troppo lunghi per essere dei veri shorts e sì perché se un po mi conosci sai che non è nel mio stile spiegare le cose velocemente e parlare velocemente e quindi facevo veramente fatica a restare nel minuto concessomi dagli shorts negli scorsi giorni ho fatto qualche tentativo però sinceramente non mi sentivo a mio agio e quindi faccio dei video un po più lunghi ma sempre short di che cosa parliamo oggi di un problema molto comune a tutti gli utenti che utilizzano chrome ovvero la lentezza di chrome dovuta all'eccessivo consumo di ram ti senti pronto iniziamo per risolvere il problema andiamo ad aprire il nostro google chrome e portiamoci sui tre puntini in alto a destra facciamo clic e scegliamo la voce impostazioni portiamoci quindi su rendimento e selezioniamo la voce risparmio memoria fatto questo portiamoci su sistema e disabilitiamo le app in background dopo la chiusura di chrome e per finire portiamoci su privacy e sicurezza scendiamo fino alla voce cookies di terze parti scendiamo un po più in basso fino alla voce precarica le pagine clicchiamoci su e scegliamo la voce nessun precaricamento a questo punto ci basterà riavviare chrome che utilizzerà molta meno ram sinceramente mi sembra di essere andato ragionevolmente spedito eppure ci ho impiegato due minuti a dire quello che dovevo dire quindi mi sembra la palissiano che il formato degli shorts non fa per me ma a questo punto quello che mi interessa invece è il tuo parere e se quindi al posto degli shorts che faccio uscire nei giorni in cui non abbiamo i consueti video lunghi posso secondo te utilizzare questo formato o meno ti sarei davvero grato se me lo facessi sapere nei commenti alla prossima